Ben ritrovati in diretta, martedì 20 dicembre, manca davvero pochissimo al Natale e non potevamo esimerci dal parlare non solo di cose importanti ma anche di cose buone, visto che Natale è una delle feste per eccellenza che ci vedono riuniti intorno alla tavola, la festa che riunisce la famiglia e tante volte ecco lo si fa intorno alla tavola, la presenza di cose buone. Noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi stamattina un autentico ambasciatore di bontà che è Antonio Cera di Forno San Marco, buongiorno Antonio grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato. Perché Antonio è qui? Antonio è qui perché non è soltanto un Mastro Fornai panificatore che viene da una lunga tradizione familiare in questo senso ma perché grazie alle sue intuizioni il suo panettone sta facendo il giro del mondo, un panettone che tra l'altro ha anche un nome particolare, si chiama Panterrone e quindi direi di entrare subito nel vivo dell'argomento e chiedere ad Antonio che cos'è questo Panterrone e come mai è richiesto in tutto il mondo? Sicuramente immagino perché sia un po' diverso dagli altri, sono passati ormai oltre dieci anni da quando ebbi un po' l'idea di realizzare qualcosa che era legato alla terra e il primo fu con le olive e poi passammo a valorizzare un po' elementi diciamo umili come la rapa rossa, il peperone, il cappero, il lampacione, a mixare qualcosa di tipo caciocavallo podolico, pera, fava di cacao, gli agrumi stessi del gargano quindi era un po' valorizzare tutto ciò che ci legava alla terra perché dalla terra parte il tutto. Quindi ingredienti se vogliamo anche particolari per un dolce classico come il panettone però questo non ti ha impedito di introdurre questa innovazione insieme alla valorizzazione dei prodotti della terra e ha segnato il tuo successo? Evidentemente sì, la gente ha percepito comunque qualcosa di diverso e ciò ci ha permesso di arrivare un po' nelle case di tutto il mondo. Tu sei riduce da un viaggio in Giappone e poi questo qualche settimana fa e poi sei stato a Milano soltanto l'altro giorno. Com'è stata l'esperienza in Giappone? Beh, in Giappone è incredibile, è unica. Intanto ho avuto la fortuna per la farnesina, per l'ambasciata italiana in Giappone di chiudere la settimana della cucina italiana nel mondo con una cena di gala legata anche all'altro progetto Grani Futuri ed è stata una cena di pane, una cena di pane e di recupero, live for a cycle of bread. Quindi il ciclo di vita di recupero del pane praticamente. Quindi la lotta allo spreco, la sostenibilità, il riuso, come questo sacco di farina prevede che poi con 13 passaggi noi trasformiamo in una borsa. Quindi come dire, quello che facciamo non è soltanto pane o lievitato o panterrone, ma è un qualcosa di diverso. E questa filosofia tu hai avuto la geniale intuizione di convogliarla nel progetto Grani Futuri di cui ci accennavi, attraverso il quale qualche anno fa hai lanciato al mondo il manifesto futurista proprio del pane e dei grani. Esattamente, era come un dire partendo dalla terra, avendo come simbolo il pane che è sì l'elemento più umile che arriva sulle nostre tavole. Però se noi lo pensassimo come la massima espressione, il gioiello della terra, ci renderemmo conto che qualsiasi angolo della nostra Italia e non solo, se trattata nel migliore dei modi, può darci qualcosa di unico che poi può diventare anche qualcosa di sociale e di economico e quindi creare anche sostenibilità economica per qualsiasi territorio. E tu in questo sei veramente un maestro, la tua formazione in questo senso evidentemente è stata strategica per valorizzare una tradizione di famiglia che dal 1961 regala al territorio prima, ma poi come hai detto in tutto il mondo, grazie all'e-commerce, le vostre bontà. La regia ci sta proponendo nel nostro ledwall alcune immagini legate al vostro sito e solo qualche istante fa con la cosa dell'occhio sbirciavo quella immagine bellissima di quelle che sono le donne di Forno San Marco, in maniera particolare zia Maria, zia Tanella e mamma Lina. Nel sito è riproposto un articolo di Repubblica, ma vorrei, eccole qui, in tutto il loro splendore, ma vorrei che dedicassi tu alcune parole alle fondatrici di Forno San Marco. Per me è emozionante sicuramente guardarle. Dietro di loro ci sono dei ragazzi meravigliosi provenienti tutti dal territorio, che non è detto che comunque non si integreranno domani con professionisti provenienti da altre parti d'Italia e del mondo, però loro hanno una forza dentro unica, incredibile, dove non si arrendono mai e da loro ho imparato a valorizzare la mia terra e a trattarla con cura, perché c'era un si fa così per ogni cosa. Questa era la stagione di quel tipo di ciliegia, questa era la stagione della barbabietola, questa della rapa, questa della melanzana, queste sono le prime, sono un po' meno saporite, queste sono le ultime, questo è il periodo giusto, quindi ho vissuto in questo tema meraviglioso, dove ogni cosa, ripeto, era trattata con cura maniacale, ma sempre con il sorriso. Che bello! E poi quanto è bello quando tanta passione, tanto lavoro, tanto impegno viene riconosciuto a livello internazionale. Dicevamo, oramai non si contano più i tuoi giri intorno al mondo, i riconoscimenti, solo da ultimo Gambero Rosso ha premiato il Panterrone come uno dei migliori prodotti da forno di questo 2022. Qual è il viaggio che ricordi con maggiore affetto e il riconoscimento che ti ha dato più soddisfazione? Magari non necessariamente quello più importante, ma quello che ti ha dato, ti ha emozionato di più? Il viaggio che ricordo è stato quello in Niger, complicato andarci da turista, quasi impossibile forse, un giorno mi arriva una telefonata dalla Farnesina e dice vuoi venire a realizzare una missione impossibile, che sarà mai andare su Marte, no? Venire in Niger perché c'è la settimana della cucina italiana nel mondo. E io subito accetto, costruisco una squadra con i miei ragazzi per andare lì e in effetti lì, messo il piede fuori dall'aeroporto, comunque si era sempre scortati in auto blindate, c'era una sola strada asfaltata nella capitale Niamèi e ricordo comunque il nostro adeguarci a qualsiasi situazione e l'incontro comunque con la gente, lo scambio con la loro cultura è stato meraviglioso, ripeto, cioè turisti. È bello, è molto bello che tu abbia scelto di raccontare questa storia perché io so che tu nel tuo percorso professionale hai incontrato tante persone importanti, quindi richiamare questa esperienza di vita diciamo lontana dai grandi nomi ma che ti ha dato grandi emozioni è bello da parte tua, però se dovessi raccontarmi qual è la persona, prima di ritornare al premio, qual è la personalità più importante che hai conosciuto e ti ha restituito qualche cosa in termini di emozione, esperienza, chi sceglieresti tra i vari personaggi che hai incontrato in questi anni? Ma questa è domanda complicata, no però diciamo l'incontro con Ambani, uno dei dieci uomini più ricchi del mondo, patrimoni oltre 100 miliardi di euro e vedere come lui ha posto loro tre, praticamente ne abbiamo fatto la festa di fidanzamento, la festa di addio al ceribato eccetera e c'erano anche loro in una e quindi loro da sua madre soprattutto venivano trattate come tre principesse praticamente, che bello e invece eravamo lì a lavorare per loro. Che bello, che bello e invece per ritornare un istante al riconoscimento, uno dei riconoscimenti che in questi anni ti ha fatto più piacere? Ma se per me fu dal punto di vista diciamo fisico all'inizio quando dieci anni fa realizzammo il primo panterrone con le olive e il cioccolato e sulla cucina italiana fumo inseriti come primi e dietro di noi, cioè io avevo appena iniziato il mio percorso professionale da fornaio e dietro di noi c'erano tutti i grandi nomi della pasticceria italiana tutti a chiedersi ma chi fosse mai questo fornaio per stare lì davanti e poi con un prodotto strano quando all'epoca undici anni fa si realizzava soltanto il panettone al cioccolato con l'uvetta, con i canditi, magari con un albicocca ma non si era mai inserito qualcosa di diverso. Care telespettatrici, cari telespettatori, questo fornaio ha un nome e un cognome, si chiama Antonio Cera di Forno San Marco, il forno di San Marco in Lamis a due passi da San Giovanni Rotondo, l'autore del panterrone che sta facendo il giro del mondo e che stamattina ci ha onorato della sua presenza qui con noi raccontandoci tra l'altro la bellissima storia delle fondatrici del forno. Antonio la nostra chiacchierata giunge al termine, sono stati pochi minuti ma molto intensi, io ti ringrazio di cuore per essere stato qui con noi e ti invito insomma a celebrare i prossimi traguardi insieme qui con noi a Padre Pio TV. Grazie mille a te per questa piacevole chiacchierata.